Cassellino, poi cazzo facciamo, andiamo giù per la discesa invece cazzo facciamo due risate, guardate ci sono due funghi al volo, dopo l'uscello poi andiamo verso Masserano, birra, carretto, birra anche io, carretto, birra, così la beve anche Roma con noi e andiamo le cucumelle le trovi però, magari ti vedo vabbè, è vero lì adesso è rossa, stai registrando? sì, qui stiamo facendo qualche cosa stiamo facendo giochiamo? giochiamo, e questo cos'è? che flash ciao, Duma Duma, dite me la vogliamo aspetta hai già provato come si scalda questa roba la batteria o questa? no, questa comunque, oh Josè, se dovesse capitare perché io ho detto, tanto se qua devi già stare attenti che devo un po' fare su Amazon c'è questo si si, lo guardate, ma lo guardate ieri sera si eh? aspetta si, aveva peper così una volta mi arrivava tra l'altro gli occhiali aspetta il tuo fratello gli ho lasciato una pila nuova ho ancora gli occhiali ho ancora gli occhiali pannati dove vuoi dire? dove all'e? dove all'e? dove out? ah a vado 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 ah 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 utah c'è un cazzo porca puttana c'è un cazzo c'è un cazzo 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 cazzo